Io sono stata qua fino a che abbiamo mangiato la domanda perché dopo dopo ho fatto il mercurio di lavoro. Domani abbiamo sempre fatto un po' di rifiutare e io dalle ore 4. Più religione, più italiana, più un'altra cosa, più niente. Guarda stavrei, dov'è? Guardalo! No! Guarda dov'è, sta qua! Adesso lo mando. Lui, lui, vuole il problema di più. Ah!